Sì, sono felice della gara che ho fatto, di essere andata meglio dell'anno scorso e di aver gestito bene. Sicuramente iniziare bene fa piacere e speriamo di arrivare bene anche a fine stagione. Sì, sono contentissima di aver iniziato con il titolo in questa gara, sono contentissima anche di aver migliorato il tempo rispetto agli altri anni, però comunque la stagione è lunga. Sarà dura sicuramente, però vediamo come andrà.